ciao ragazzi da The Face Game sono Taylor e come vedete sono da solo per questo chiamiamolo vlog che è vlog, vabbè alla fine non è, è solo un modo per mettere in chiaro alcune cose diciamo così allora qualche giorno fa abbiamo caricato un video di Exector e questo video ha ricevuto tantissime critiche nei commenti dicendo che Exector si fa iscritti sponsorizzandosi su The Face Game collaborando con Dread, insultando Exo quando l'aveva lanciato e cose del genere allora ragazzi la sponsorizzazione su YouTube funziona fino a un certo punto nel senso che noi abbiamo caricato spesso gameplay di altri youtubers nel nostro canale anche se non siamo una community ok almeno diciamo che non siamo più per le clip che per i gameplay per i gameplay c'è la Mela Cemera Godo, c'è Jimba Network che sponsorizza youtubers praticamente ogni giorno noi diciamo abbiamo scelto di caricare ogni tanto dei gameplay di qualcun altro perché ci sembravano cose assurde no? sapete, Kiss The Face Game è un canale che si basa sulle cose incredibili dei videogame no? soprattutto Battlefield, chiaramente Call of Duty se è chiaro che se uno mi invia un gameplay che ha fatto che ne so 50 uccisioni, 10 morti per me è un gameplay normalissimo, bel gameplay ma normalissimo se uno mi invia un 211.0 quello è un bellissimo gameplay quindi abbiamo deciso che quando ci arrivano cose simili abbiamo deciso che caricavamo poi per il commento potevamo commentarlo noi come il ragazzo che ci ha inviato il gameplay questo non era un problema era un modo come un altro per sponsorizzare questi ragazzi che fanno cose incredibili e quindi che nel canale tipo Pawners ha fatto bellissimi gameplay non sto dicendo che ci sono persone che non riescono a fare un gameplay simile perché probabilmente ci saranno persone che in tutta Italia fanno un gameplay magari anche solo uno ma migliora di quello di Pawners quello che ha fatto Capita Palletta che ha fatto 211.0 adesso non sto dicendo questo che è quello del migliore in assoluto al momento però era il gameplay migliore che avevamo ricevuto noi se poi voi lo fate e non lo inviate a nessuno o semplicemente lo inviate dopo ragazzi dovete anche capire che non essendo un canale che carica gameplay di altri o almeno tende a caricarne uno ogni tanto e ci inviate una cosa che è simile a quella già caricato che ne sa un nuclear di DSR noi ci è arrivato un nuclear di DSR DimeStar l'abbiamo caricato era un bel gameplay era il primo nuclear che carichiamo noi sul nostro canale col cecchino col fucile da cecchino col DSR e dopo quel giorno sono arrivati almeno una decina di nuclear col cecchino col ballista allora ragazzi è normale che se abbiamo già caricato un video così simile non vada a ricaricare un altro perché i ragazzi che ci guardano e ci seguono secondo me devono avere anche un minimo di varietà nel canale se comincio a caricare i gameplay tutti uguali cambia solo l'arma non ha senso un contro se sono i gameplay fatti da me da TV in live che magari sono la gente si si va al nostro canale anche per sentire noi che spariamo stronzate tutto il giorno e se carichiamo video di altri magari la gente poi si stufa ma spesso infatti spesso abbiamo letto commenti del tipo noi non vogliamo te noi siamo iscritti al canale pretty face game vattene da qui e c'è ragazzi allora io non capisco allora se carichiamo video di altri quello che ha caricato il video spesso viene insultato è già successo ben due volte che abbiamo dovuto cancellare il video poco dopo l'uscita ieri per esector l'altro giorno per esector e tempo fa per un altro youtube non mi ricordo del nome che faceva tipo delle recensioni di giochi brutti in poche parole e sinceramente a me non sta bene che io carico un video e dopo lo devo cancellare dietro non c'è un gran lavoro però dovete capire che io uso la chiavetta devo mettermi a caricare i video da mezzanotte e stare sveglio perché se no la chiavetta si sconnette fare tutta questa cosa qui fare la descrizione nell'anteprima eccetera eccetera e poi cancellare il video dopo nemmeno un'ora dall'uscita e non va bene non va bene per voi che seguite il canale non va bene per noi che lavoriamo per niente sostanzialmente e mi dà fastidio perché nel momento in cui carichiamo video di altri non va bene perché allora a chi non sta bene che si sponsorizza su The Face Game a chi non sta bene perché dice scusa perché quello lì ha dato la possibilità di caricare un video su TFG a me no oppure non vogliamo vedere te vogliamo vedere The Face Game invece se non lo carichiamo diciamo no ragazzi non carichiamo video di altri di altri youtubers e ci venite a dire che non siamo magari che non aiutiamo la community che non aiutiamo gli youtuber emergenti che siete delusi perché spesso mi trovo anche messaggi del genere sono molto deluso da quello che hai fatto non puoi neanche sapete quanti ragazzi richieste di like ci arrivano ogni giorno lasciaci un like qui lasciaci un like là sponsorizza questo su facebook ragazzi noi cerchiamo di aiutare intanto chi chi secondo noi ha un minimo di di come dire originalità uno è originale fa esector in un momento ci è piaciuto perché ha quel modo di commentare molto usa termini molto non so come dire adesso tipo Andrea Di Pre catafrata per capirci usa termini tutti molto complicati insomma e non si inceppa mai è molto bravo nel parlare quindi insomma secondo me meritava avete ok mi piace il tuo gameplay lo carico sei bravo e quindi io penso che alle persone che ci seguono potrebbe piacere quindi non sarebbe male insomma potrebbe anche un po' distaccare il fatto che ci siamo sempre solo noi e quindi dare un minimo di varietà al canale evidentemente questa cosa non so non piace non lo so sinceramente è difficile poi capire quello che realmente volete se veramente volete che aiutiamo la community postando video di altri o evitare cercare di caricare magari un video due in meno a settimana però video nostri video di Tivo di Taylor e di Rinnegan e solo The Face Game allora abbiamo visto che comunque questa questa idea di caricare video di altri ogni tanto non 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 piace perché spesso abbiamo visto commenti brutti non è bello né per noi né per soprattutto per quelli che caricano i gameplay sul nostro canale allora voi dovete capire che YouTube crescete sì grazie alla sponsorizzazione ma non solo la sponsorizzazione è una minima parte nel senso che allora noi quando abbiamo iniziato a fare i video non sapevamo che se uno cliccava like finiva nella feed questo ce l'ha spiegato ragazzi a normal player ragazzi che era un nostro ci ha conosciuto non è neanche un nostro fan l'avevo conosciuto durante una partita di Black Ops e niente giocavamo insieme poi pian piano mi ha spiegato queste cose che io non le sapevo ragazzi io non le sapevo né io né Tibo né Rinnegan ragazzi sapevamo della like della feed e non aveva mai chiesto un like a un tempo a Lego Albi che erano i mostri sacri di YouTube a me la Godo che era diciamo già ben avviata aveva già i suoi 10.000 10.000 20.000 iscritti non mi ha mai chiesto niente ragazzi abbiamo diciamo avuto la fortuna di avere contatti con Leonida di Melagodo che era l'amministratore della pagina Facebook di Melagodo appunto e ci ha fatto il grande favore ogni tanto di postare non i gameplay ragazzi ma solo le top 10 sulla pagina Facebook di Melagodo sono le top 10 quindi avrà postato una decina di video ma il fatto è che grazie a quella decina di video noi siamo cresciuti esponenzialmente perché evidentemente essendo magari gli unici in Italia a portare le top 10 e gli unici a commentarla in modo così divertente ci ha fatto crescere velocemente quello che voglio dirvi non è un vanto per me ragazzi quello che voglio dirvi è che chi ha una sponsorizzazione non è sicuro al 100% che spicchi il volo su youtube perché se ragazzi il video non piace o il video comunque non ha originalità insomma non piace mettiamola così non piace potete sponsorizzarlo dove volete ragazzi dove volete ma invece di farvi che ne so 3 iscritti ne farete 5 ma sono sempre comunque pochi io mi ricordo che quando mettevamo un video su scusate Leonida metteva un video sulla pagina facebook di Melagodo noi quel giorno li avevamo 300 iscritti 300 iscritti in un giorno Leonida ha postato il video su Melagodo dopodiché abbiamo fatto diciamo dei video al tempo per la biblia dei player di code che aveva una pagina facebook di 30.000 mi piace lui ci ha detto ragazzi io vi sponsorizzo però in cambio insomma anche voi dovete fare qualcosa giustamente ragazzi giustamente io non sono quello che vuole fare tutto gratis è sbagliato ragazzi uno mi aiuta io in qualche modo lo devo aiutare mi sembra giusto dove posso lo aiuto e abbiamo fatto dei video per questo canale e lui in cambio ci sponsorizzava un po' sulla pagina facebook quello che voglio dirvi alla fine di tutto è che anche noi siamo stati aiutati e quindi il fatto di caricare altri gameplay era un modo nostro per ringraziare chi ci ha aiutato e fare lo stesso con voi che ci inviate i gameplay però allora se io mi devo caricare un gameplay no ragazzi e poi sentirmi dire ah no cancella il video ah no non mi va bene vedere questo preferisco i deface game ah no non va bene un cazzo di niente cioè ragazzi allora abbiamo deciso io io tv e rinnegan che da oggi gameplay non vanno più caricati su the face game preferiamo caricare un video due in meno sul canale ma vi do che siano video nostri ok e mentre ragazzi per la sponsorizzazione se volete essere sponsorizzati andate su social game tfg abbiamo creato il secondo canale appunto per sponsorizzare youtubers emergenti evitate insomma di inviare 50.000 gameplay di call of duty che se ne vedono già tanti quello che voglio dirvi non è perché call of duty è brutto è perché call of duty è youtube è saturo è pieno di video di call of duty ce ne sono troppi quindi già il fatto di cambiare gioco significa essere un po' originali già il fatto di cambiare gioco se poi vi scegliete giochi anche un po' retro cose del genere secondo me avrete successo perché sono giochi che svedono poco parliamo di videogame ragazzi ha fatto 120 130.000 iscritti e non ha fatto un solo video su call of duty e battlefield proprio perché è originale perché tratta video diversi e se caricate video di call of duty e battlefield ragazzi ci sono già ci siamo noi ci siamo c'è Ron c'è Gabbo c'è Dread ragazzi che carichano video praticamente sempre di call of duty e battlefield tranne Gabbo ragazzi che è l'unico che cambia gioco e ha merito di essere diciamo diverso almeno su quel punto di vista e quindi ragazzi io non non era questa dopo anche la storia del mi piace ragazzi anche la storia del mi piace allora nei video quando uno chiede mi piace o anche nei post di facebook non è che lo fa per far vedere che molti dicono non è lo fate per il mi piace ma ragazzi ma siete fuori col melone cioè io quando voglio io quando posto un video su facebook diciamo quando ad esempio c'è la road to ash beach ho visto che è una serie che è abbastanza piaciuta e non mi dà fastidio che magari in quel giorno lì che avevo deciso di caricarlo qualcuno molti di voi non c'erano a vederlo allora cosa faccio dico ragazzi cliccate like se siete online o se siete online alle 14.30 che di solito postiamo video a quell'ora e così pubblico tranquillamente video di road to ash beach così sono sicuro che molti di voi che ci seguono non se lo perderanno e vedo commenti e se lo fate per i like potete fare a meno di postare il video ma io non capisco c'è veramente una roba assurda io chiedo io vedo il like ragazzi se voi mettete 50 like o 2200 milioni di like io non è che ci danno soldi non è che mi danno un euro al like se mi dasse un euro al like farei un post ogni due secondi ragazzi è solo un modo per vedere quanti di voi siete online quanti di voi in quel momento ci sono perché io voglio essere sicuro che quando posto un video una top soprattutto video che comunque ci tengo che voi vediate voi in quel momento lì siate lì presenti siate online e in qualche modo dite boh gli ho messo like per me il like significa sì ci sono vedrò il video questo è il punto oppure che ne so posto un anteprima di un video sì domani ci sono vai tranquillo anche spesso non lo so spesso vi chiedo a che ora volete il video lo volete al mattino a pomeriggio perché voglio essere sicuro che voi diciamo lo vediate stessa cosa funziona per youtube ragazzi quando voi mettete like su youtube non dovete metterlo perché sono c'è taylor di the face game allora c'è taylor anche se il video fa cagare metto mi piace è un modo come un altro per ragazzi modo vostro diciamo di ringraziare il non ringraziare più che ringraziare dare un parere diciamo al video il commento e il like non serve per far vedere che siete super mega fans no assolutamente voi dovete mettere mi piace al video perché il video in effetti vi è piaciuto cioè ragazzi preferisco avere 3000 like o 2000 like invece che 8000 ma sapere che quei 2000 l'hanno messo perché il video gli è piaciuto non perché c'è la reddita face game che fa il video ragazzi e il commento ragazzi il commento usate i commenti per parlare del video non per insultarvi ragazzi cioè quante volte abbiamo visto gente che scrive primo commento ah vuoi un biscotto cretino scemo stupido allora due sono le cose o quello che scrive primo gli piace essere insultato oppure non so veramente siete decelebrati e volete farvi insultare pesantemente perché scrivete a primo poi altra cosa ma se uno scrive primo ma non è che a me non è che io do un premio a quello che scrive a primo nel commento voi dovete insultarlo cioè scrive a primo nel commento è inutile è vero lo so è vero ma è anche inutile insultarlo ragazzi che cazzo non insultate spesso ho visto gente che si massacra ma si dice di quelle cose si insulta la madre si insulta cioè io non so ma se siete ma se siete normali ragazzi cioè io non sono normale ma voi cazzo superate ogni limite veramente cioè insultarsi nei commenti di un video di Taylor le difese cioè roba allucinate commentate per quello che è il video commentate su cosa volete ad esempio c'è gente che sugli ultimi video di Happy Wheels ha detto no fate browse levers perché lì ci sono su Happy Wheels ci sono delle mappe belle diverse dal solito e che agli utenti piacciono vabbè cazzo quello un commento infatti ho risposto certo la prossima volta lo faremo ma vedere gente che si insulta costantemente veramente una cosa allucinate quando vi soldare tra di voi quando insultano noi vabbè ragazzi io non so cosa cosa pensare vabbè gente che ci dice fatevi una vita siete stronzati ormai io ho perso la speranza neanche rispondo più perché secondo me non merita un'attenzione voglio dire anche perché dietro un computer è tanto facile la cosa che veramente internet rende questa cosa molto libera uno può scrivere vaffanculo stronzo pezzo di merda tanto quello lì è a chilometri di distanza non sa chi sono non sa dove abito posso farlo vaffanculo e io sinceramente ho ormai 24 anni ad ottobre ragazzi non perdo tempo ad insultare le persone così liberamente online cioè io quando veramente sono pesanti dico ok però vedete che spesso non rispondiamo proprio perché secondo noi non meritano attenzione ripeto sono talmente sotto la base del genere umano che non meritano attenzione veramente io quelli che insultano in quel modo lì lasciamo stare e quello che volevo dirvi insomma è che ricapitolando adesso basta perché sono 20 minuti che parli che avevano anche roti i coglioni basta video che imprendi altri se volete sponsorizzarvi c'è il secondo canale social game tfg lo trovate anche in descrizione carichiamo video anche nostri semplicemente per sponsorizzare di più il canale ragazzi non per altro non mi deve essere dire caricate i video di altri caricati i vostri si grandissima testolina di cazzo lo facciamo lo facciamo perché così il canale cresce di più perché quel giorno lì abbiamo notato che quando clicchiamo i nostri video il canale ha più visualizzazioni più iscritti e nel momento in cui uno va a chiedere una sponsorizzazione a social game tfg è più contento perché invece di finire su un canale da 10.000 finirà su un canale da 20.000 e così via detto questo scusate un attimo lo sfogo perché veramente ragazzi quando uno si sente insultato ogni giorno perché è vero che tanti di voi sono grandi siete grandi e fa piacere ragazzi fa piacere c'è poco da fare quando uno mette un mi piace a un video o ha un commento di post o scrive un commento o ha un commento di un video e scrive se ragazzi siete fenomenali se siete simpatici ragazzi fa piacere tantissimo ragazzi voi ne avete idea ma è anche vero che quando uno ti insulta ma insulta pesante ragazzi mia madre non c'entra niente nei video vi dico solo così è brutto è molto brutto ragazzi non penso che a nessuno piaccia essere insultato pesantemente liberamente così e normalmente non so io dopo uno sclera giustamente come ho fatto io adesso vabbè io spero che abbiate capito spero che questo video l'abbiate seguito bene tutto perché voglio essere sicuro che voi capiate le nostre intenzioni capiate perché lo facciamo basta diciamo che può anche finire qua non ho più niente da dire spero che voi abbiate capito ragazzi ciao a tutti al prossimo video ciao a tutti